A Teramo la Giunta Municipale ha approvato il progetto generale esecutivo e di fattibilità economica del progetto Paride, volto all'efficientamento energetico che prevede al suo interno diverse tipologie di azioni e di interventi sull'intero territorio comunale per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. Le finalità del progetto sono di ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza dei punti luci, diminuire i costi di gestione e di manutenzione. È un progetto importante anche perché abbiamo recepito quella che è la necessità da parte dei nostri cittadini in merito alla sicurezza e quindi verranno collegate sul territorio Teramano 42 telecamere, oltre poi a illuminazione, un'ottantina di pali di illuminazione che verranno collocati anche all'interno del perimetro comunale e soprattutto poi anche una somma verrà dedicata per luci artistiche. Telecamere che verranno installate in particolar modo in centro? In centro e laddove riterremo necessario di concerto anche sentiti i cittadini e la Polizia Municipale, in quelle zone dove si ravvede la necessità di un controllo puntuale. Controllo che verrà fatto direttamente dalla Polizia Municipale? Sì, questo lo stiamo valutando, ma sì, sicuramente sì. Tempistiche? Le tempistiche, quelle tecniche passate in giunta e quindi le tempistiche che saranno necessarie per portare avanti questo progetto di cui i nostri uffici si stanno già adoperando in maniera fattiva. Qual è il costo totale dell'operazione? Il costo totale è una cifra importante, sono interventi di una certa consistenza e quindi importanti per la città di Teramo. Grazie a tutti.